Ciao a tutti criticone e criticone e dopo un po' di tempo eccomi con un nuovo video oggi volevo parlarvi dell'ultima live che ha fatto Chiara praticamente il suo format e anche il nostro format preferito ovvero le live boasta mancavano da una decina di giorni e tutti ci chiedevamo dove fosse finito questo format e dopo un po' di attesa è ritornato come sapete il mese scorso Chiara ha fatto live su live boasta quindi probabilmente questo mese ha voluto mantenersi con dei toni più tranquilli nella live che è stata fatta ieri sera praticamente Chiara si è lamentata di tre cose la prima della storia del ventilatore cosa è successo? qui molto veramente in breve allora praticamente Chiara aveva acquistato un ventilatore che aveva detto di aver pagato 129 euro però nel titolo c'è scritto che costava 200 euro quindi da lì è nata tutta una polemica da parte degli utenti che francamente però io non ho ben capito e trovo, dico la verità, un po' assurdo mettersi a fare polemiche in fondo sul prezzo di un ventilatore che sia quello che sia appunto 129 o 300 in questa live inoltre lei ha voluto come al solito sottolineare che noi siamo degli haters rosiconi ossessionati e che lei praticamente sfrutta queste situazioni per poter così fare un po' di cash la seconda per cui si è arrabbiata invece è un argomento di cui volevo un attimo trattare è stato il discorso delle alborelle perché alcuni canali e alcuni utenti si sono permessi di dire e di scrivere che loro non avevano il permesso di pescare quella tipologia di pesce io personalmente mi sono informato e come vi ho detto il divieto c'è solo sul lago di Iseo e su un pezzo di un fiume l'informazione è presa dalla regione Lombardia e inoltre la notizia risale al 2020 quindi è abbastanza recente quindi per quello loro non stavano commettendo nessun crimine per di più Chiara ha voluto precisare che Davide aveva la licenza di pesca e che quindi sì ancora una volta praticamente tutte queste persone che si sono messe a contestare lo hanno fatto semplicemente per rompere le balle e perché non hanno niente da fare dalla mattina alla sera ora io vorrei però aprire una piccola parentesi come al solito su questo Chiara ha appunto parlato dei canali che hanno detto che lei è andata a pescare illegalmente ha portato il marito a pescare poi c'è stato vabbè uno scherzo da parte di un utente che quello vabbè lo ammetto l'ho trovato abbastanza simpatico praticamente le hanno mandato la foto del giuchino con i pesci che hanno praticamente una calamita e tu hai un amo con una calamita col polo opposto e praticamente devi riuscire a prenderli è un gioco per bambini molto piccoli vabbè tolto un attimo questo scherzo e volevo appunto pormi come al solito questa domanda ma come mai Chiara vede sempre i canali che parlano male di lei e non riconosce mai quando un canale magari la difesa o comunque ha detto la verità perché riveto io non voglio complimenti da lei però non deve andare a inventare che chiunque è andato a dire che praticamente loro due stavano pescando abusivamente perché io sono stato il primo a difendere almeno in questo campo perché vabbè quando una persona ha ragione glielo riconosco quando una persona ha torto viceversa detto questo passiamo all'ultimo punto di cui praticamente si è lamentata come sapete sono venuti a trovarli Brunello Denis Brunello e poi il giorno successivo in giornata si sono visti con Pietro il loro moderatore molti utenti hanno voluto praticamente fare una serie di battute di supposizioni chi diceva che Chiara si fosse appunto truccata per essere bella per Pietro perché aveva un'infatuazione chi ha detto che praticamente Pietro in realtà sarebbe fidanzato il Brunello chi addirittura si è inventato che Pietro è l'amante di Davide e niente questo ha infestilito molto la D'Alessandro che ha voluto riportare tutta questa serie di favole inventate su di loro però non so se vabbè fa orecchio da mercante ma Chiara non ha ancora capito che la gente si inventa queste cose per farle un dispetto se lei continua a elencarle queste cose fa solo un danno a se stessa per di più non mi è ecco qui non mi è piaciuta una cosa che lei ha detto a un certo punto praticamente lei stava appunto parlando di tutte le voci che giravano sui suoi presunti amanti cioè presunti amanti che non è vero però vabbè sui suoi presunti amanti e a un certo punto ha detto che noi praticamente la vediamo come una T puntini puntini cioè la femmina del maiale in poche parole perché si innamora di tanti uomini francamente con questa uscita io penso che Chiara abbia in un certo senso fatto intendere che per lei una donna che si innamora magari si innamora oppure veramente che non è solo una questione di sesso che si innamora di più persone è per forza una poca di buono senza appunto mettere in considerazione che esiste quella cosa chiamata poliamore detto questo ragazzi io in realtà non ho altro da dire cioè le cose sarebbero tante ma preferisco al massimo dire altro in live con questo io chiudo il mio breve video e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti